Al 49esimo paglio della rana di Fermignano, tra sfilate in costume, musici e sbandieratori, si sono svolte le eliminatorie tra gli scariolanti delle sette contrade per conquistare il trofeo. Viviamo insieme l'emozione della finale. E' partita la finalissima del taglio della rana. San Lazzaro, Simone Caternani in testa, c'è anche la piene con Cristian Corrieri. In lieve ritardo, San Lazzaro, cade la torre, cade la rana, arriva Cristian Corrieri. Al comando, ancora è tutta da giocare, sono tutti lì. Cristian Corrieri con la torre, dietro San Lazzaro, ha spazzato la piene con Geragolo. Attenzione, c'è anche un'albacchimando la rana, saluta. Attenzione, sta per arrivare Cristian Corrieri. Attenzione, vale la gara, vale la gara per la gara, tranquillo. Il salvo giro, cade ancora. Sì! La torre, Cristian Corrieri, si è alzato la seconda, beccate. E questo torre, Simone Caternani, che negli ultimi 30 metri si è vista saltare la rana, parte di quelle volte da metodora. Al terzo posto, la piene con Gianluca Ceravolo. E' stato il regno del posto, ultima Calagostina, con Luca Udiccioli. Calagostina al posto posto, l'edizione 2013 del taglio della rana, torneo storico, città di Temiliano. E' abbandonato Cristian Corrieri, che ha portato i colori della storia alla Roma. E' un'altra parte! E' un'altra parte! Aprocalendo il prossimo anno